Benvenuti in questo nuovo tutorial per la fotografia, appuntamento del sabato, come ogni sabato, dove fronteggiamo il tema autofocus. Autofocus usato per mettere a fuoco come vogliamo noi e non come vuole la macchina. Cosa vuol dire questo? Tante macchine hanno la possibilità di scegliere diversi punti di messa a fuoco e mentre preggiamo il tasto di scatto la macchina trova un ideale o ipotetico punto di messa a fuoco, mentre, o più punti di messa a fuoco, mentre non interessa mettere a fuoco quello che vogliamo noi. E quindi quello che consiglio, intanto vediamo qualche immagine su come si possono realizzare certe immagini con la messa a fuoco selettiva, quindi mettendo a fuoco ciò che vogliamo noi, va impostato nella macchina, oppure suggerisco di impostare nella macchina il punto di autofocus singolo. Così saremo sicuri che in quel punto, quando feggiamo il tasto di scatto, andrà a fuoco il nostro soggetto e magari utilizzando un diaframma aperto otterremo quei belli effetti di sfogatura di gradante oltre il soggetto e quel particolare effetto che vediamo nelle immagini che stanno scorrendo. Quindi prima cosa da fare è cercare nel menu, non posso spiegare qui per tutte le macchine come si fa, nel menu il punto di messa a fuoco singola, invece la tecnica per utilizzarlo al meglio è quella di mettere a fuoco, quindi regolare la nostra messa a fuoco, naturalmente puntando sul nostro soggetto, sapendo che il punto di messa a fuoco è uno soltanto, c'è anche la possibilità di scegliere in quale posizione del mirino selezionare questo punto di messa a fuoco. Consiglio quello centrale, così andiamo sul sicuro e sappiamo che nel centro ci sarà il punto di messa a fuoco. Quindi il suggerimento per la tecnica operativa per lavorare in questo modo è quello di pizzare il tasto di scatto a metà e quando sarà a fuoco il nostro soggetto ricomporre per magari decentrare il soggetto e quindi mantenendolo a fuoco perché proprio pigiando a metà il tasto abbiamo la messa a fuoco e se non rilasciamo il tasto di scatto possiamo ricomporre e effettuare lo scatto in modo che mantenga il fuoco sul soggetto. Faccio un esempio su questi due soggetti che hanno una distanza tra di loro di circa 20 cm. Se io provo a fare quello che ho spiegato e metto a fuoco il primo, quello davanti, quindi mi concentro con la messa a fuoco centrale, ricompongo e faccio il mio scatto, avremo questo risultato qua. Mentre se faccio l'opposto, quindi metto a fuoco quello dietro, ricompongo senza lasciare il tasto di scatto e poi faccio il mio scatto, avremo invece quest'altra situazione che, come potete capire, come potete vedere, ha un suo impatto creativo, quindi ci dà la facoltà, la possibilità di scegliere noi che cosa vogliamo tenere a fuoco. È normale che bisogna impostare un diaframma abbastanza aperto sulla macchina, sull'obiettivo, per avere questa progressione di sfocatura in profondità. E dovremo anche trovare le situazioni adatte, quindi avere magari un soggetto in primo piano, mettere a fuoco lui, ricomporre, finire lo scatto e avere sullo sfondo immagini come quelle che avete visto passare. Non è complicatissimo, va un po' sperimentata la tecnica del pigiare il tasto di scatto, mantenerlo pigiato, ricomporre e finire lo scatto. Quindi va fatta qualche prova finché poi si diventa esperti nel farlo. È un'utile tecnica anche per il ritratto, dove la parte più importante nel ritratto è la messa a fuoco sugli occhi, quindi se noi puntiamo una persona di fronte a noi, la prima cosa da fare sarebbe di mettere a fuoco sugli occhi, facendo finta che voi siate il mio soggetto, ricomporre, quindi eventualmente inquadrare anche parte del busto e poi effettuare lo scatto. Allora saremo sicuri della messa a fuoco sugli occhi e poi invece faremo una composizione in cui includeremo parte del busto, sarà nostro gusto trovare una composizione ideale. E se abbiamo utilizzato un diaframma abbastanza aperto, avremo in profondità nello sfondo quella sfocatura gradevole che rende più efficaci i soggetti in primo piano. Spero sia stato utile questo tutorial, mi farebbe piacere un vostro commento per sapere cosa ne pensate, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, vi invito a vedere i miei contenuti qua intorno che sono tantissimi, sia per i tutorial sulla fotografia che su Photoshop e naturalmente ricordatevi il vostro mi piace. Grazie per l'attenzione.